Gigi, bravissimo Gigi, guarda, io lo sento già un fantagradi dentro di me, guarda, sono spazzatissima, anche loro, vero? Grazie Gigi, grazie Gigi, allora, adesso, la parola di, vada, vada, vada di voi. Io volevo ringraziare Gigi che con la sua energia, con la sua carica, ci ha veramente al meglio. E fare un altro applauso per Gigi, perché se lo avrei già fatto un applauso per voi, adesso lo facciamo per noi. Fai i fondamenti di servizio per l'organizzazione, l'anno prossimo se volete, potete fare tutto a lui.